Un evento che è nato in un caffè al bar con Luca, che è fondato da pochissimo, un club Ducati riconosciuto da casa madre e abbiamo detto perché c'è la passione comuna per le due ruote, la passione ancora più forte per le due ruote italiane perché non fare qualcosa insieme? E abbiamo pensato di fare qualcosa di nuovo o quanto meno che ad oggi, almeno in provincia non si era ancora visto abbiamo pensato di organizzare una manifestazione in onore delle donne, sia motociclistiche che appassionate di due ruote in generale e quindi nel giro di un mesetto c'è stata una grossa collaborazione, un'unione di intenti ben oltre il previsto e appunto ha portato a un'affluenza che è andato bene 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 oltre quello che era il migliore del previsto Ovviamente oltre alla donna, all'eloggiare la donna, abbiamo cercato di far conoscere anche la città con una visita guidata per il centro, insomma, c'è stata molta affluenza da zone limitrofe di Prevento, Molise, insomma Quindi avete fatto anche incoming turistico praticamente, un indotto per la città Ma quella, almeno per noi del Good Ciclif Benevento, è la prerogativa iniziale di qualsiasi manifestazione appunto far conoscere le bellezze di Benevento, che a me, diciamo, forse è un pochettino fuori dalle rotte turistiche quindi cerchiamo di portare un po' di turismo a Benevento L'affluenza motociclistica nella città L'affluenza motociclistica nella città